Silverstone, 14 luglio 1951, José Froilán González a bordo della famosa Ferrari 375 V12 da 380 cavalli conquista la sua prima vittoria in Formula 1 ma soprattutto la regala a scuderia Ferrari fermando così il dominio Alfa Romeo. E bentornati cari ascoltatori della rossa nel cuore, io sono Luis di Ferrari a Formula 1, la rossa nel cuore e come sempre sotto il video tutti i link per seguirci sui social e soprattutto accendete la campanellina per essere aggiornati sui nuovi video. Bentornati ferraristi alla quinta puntata di Viaggiando in Formula 1, una format che ormai sta piacendo tantissimo su Instagram ci avete scritto in tantissimi per poter avere una nuova puntata e tra le tante quotate uno di voi ci ha proposto addirittura la prima vittoria a Ferrari il 14 luglio 1951 con José Froilán González. Oggi con me non c'è il mio caro amico Matteo ma lo saluto sempre tantissimo ma prima di parlare del gran premio britannico conosciamo un po' la storia anche di questo pilota argentino. José Froilán González chiamato in Argentina El Cabezón per la sua grande testa e in Europa El Toro de la Pampa per la sua guida spericolata Nasce il 5 ottobre del 1922 in Argentina La sua carriera da pilota inizia nel 1946 con le diverse categorie argentine Diventa grande amico di Juan Manuel Fangio Debutta in Formula 1 nel 1950 con una Maserati modello 4 CLT Motore da 4 cilindri, 16 valvole e 270 cavalli Particolarità si chiamava modello T appunto perché presentava un telaio creato apposta per resistere a forti sollecitazioni Purtroppo González con questa vettura non ottiene grandi risultati anzi il primo debutto fu addirittura un ritiro Viene comunque notato da Enzo Ferrari che è molto sconfortato dalla poca competitività della Neo Ferrari E disperato per poter vincere un mondiale e fermare il dominio Alfa Romeo ingaggia González che gli promette addirittura di regalargli una berlinetta nel caso avresse portato almeno una vittoria a casa L'ingaggio di González risulta essere molto importante per Enzo Ferrari perché appunto nel 1951 la stagione inizia con il piede giusto con il primo podio per il pilota nel Gran Premio di Francia arrivato secondo e per il famosissimo Gran Premio di Silverstone dove ottiene pole position e la prima vittoria sia per pilota che per la scuderia Ferrari Nel 1954 invece il pilota ottiene addirittura la sua miglior prestazione stagionale arrivando secondo nella classifica piloti Lo stesso anno ottiene la vittoria anche nelle 24 ore di Le Mans con la 375 Plus ottenendo in carriera in generale in Formula 1 3 pole position, 6 giri veloci e 2 vittorie Dopo il suo ritiro dalle competizioni nel 1960 si dedica alla vendita di auto in commercio José Fulén González muore all'età dei 90 anni il 15 giugno del 2013 nella sua città natale in Argentina Ma senza soffermarci troppo alla vita di questo stimato pilota vi racconto un piccolo aneddoto raccontato appunto dallo stesso pilota prima e durante il Gran Premio di Silverstone Questo aneddoto è veramente interessante e devo dire che mi ha tanto incuriosito soprattutto cercare che cosa è successo prima, dopo e durante il Gran Premio di Silverstone del 1951 e in questo viaggiando in Formula 1 voglio dedicarvelo Come sapete ai giorni nostri molti piloti, molte scuderie preferiscono utilizzare il giovedì per poter studiare la pista, conoscere i punti di corda e conoscere i limiti della pista All'epoca questa cosa non era molto comune ma per quel Gran Premio ci fu un'eccezione Infatti qualche giorno prima del Gran Premio Fanchio presta la sua Alfa Romeo a González permettendogli di fare qualche giro in pista Alla fine del giro Fanchio dichiara a González Sento che sarai tu a vincere questa volta La gara infatti si prevedeva essere molto lunga un Gran Premio da 400 km dal totale di 90 giri e Scuderie Ferrari si presenta appunto con la sua 375 da 12 cilindri che gli permetteva addirittura una sola sosta ai box anziché due rispetto al resto della griglia José comunque racconta che questa cosa non era molto vantaggiosa all'inizio appunto perché la vettura era veramente vesante Infatti una volta partiti González prende il comando del Gran Premio seguito ovviamente da Fanchio Dopo diverse tornate Fanchio supera il ferrarista ottenendo un diverso di distacco che piano piano si va riducendo quando appunto la 375 inizia a consumare più benzina Dopo il primo pistopio di Manuel Fanchio González prosegue la sua corsa e una volta arrivato il momento della sua unica sosta ai box l'argentino infatti racconta che durante il suo rifornimento era previsto il cambio con Alberto Ascari quest'ultimo gli mise una mano sulla spalla indicandogli che deve continuare lui che si meritava lui la vittoria e infatti è stato così come Manuel Fanchio aveva già predetto la sua vittoria Ascari gli la regala ed Enzo Ferrari ovviamente festeggia con tutti i suoi piloti per il pilota ferrarista è stato un momento molto importante perché si è sentito appunto onorato da Ascari a lasciare il suo posto cosa che non deve essere stato facile per Ascari perché veniva appunto da un ritiro ma comunque il suo gesto è stato molto nobile González aveva 29 anni quando ottenne la sua prima vittoria appunto a Silverstone dall'in poi Scuderia Ferrari inizia la sua lunghissima scalata ai 16 titoli mondiali costruttori e 15 piloti che tuttora oggi ricordiamo e conosciamo bene ragazzi questa puntata di Viaggiando in Formula 1 era dedicata appunto a questo piccolo aneddoto che ho scoperto che mi hanno raccontato che volevo appunto dedicarvelo speriamo che Ferrari nei prossimi anni ci regali altre conquiste, altre vittorie, altre emozioni noi tifosi ovviamente dobbiamo aspettare ed essere qui a sostenerla per oggi è tutto ci vediamo settimana prossima per analizzare il Gran Premio del Bahrain e per altre puntate di Viaggiando in Formula 1 ciao ragazzi e forza Ferrari